Superamonte, regno pauroso nella fantasia di chi ne vive lontano. Impenetrabile, dove le rocce e le piante danno l'immagine dell'origine della terra e non c'è acqua fuorché quella del cielo raccolta nei buchi delle rocce o nei cavi degli alberi caduti nelle notti di tempesta. Qui c'era il mare prima, questo è giurassico, sono dei calcari dolomie dell'era giurassica, quindi depositati sul fondo di un mare. Tutte le fratture che vediamo qua in realtà fanno andare l'acqua dentro questa roccia che è come una spugna. Nel sopramonte è molto difficile trovare sorgenti che scorrono in superficie. Una volta che sali su nel sopramonte trovi questa e la vita. Un'altra volta che sali su nel sopramonte, un'altra volta che sali su nel sopramonte, un'altra volta che sali su nel sopramonte, l'ospitalità di questi pastori, passato il primo loro moto di sospetto, è l'ospitalità degli uomini che nelle grandi solitudini scoprono ad ogni nuovo incontro l'esistenza dell'uomo. È un'ospitalità da tempi arcaici. Ciò che fonda questa ospitalità non è una convenzione, ma una solidarietà di interessi in un quadro naturale ostile. Nessuna vita umana sarebbe possibile in quella minacciosa solitudine se il pastore non offrisse agli altri le cure di cui ad un certo momento avrà bisogno egli stesso. Vedi Isida, no? Qua siamo nel cuore del sopramonte, guarda, una tranquillità qui, come erano i secoli passati, rimasto. Però, allo stesso tempo, per quanto può essere così affascinante, è anche una montagna pericolosa. Beh, bisogna rispettarla. Grazie a tutti. Grazie a tutti.